Ciao Veronica, come sei cambiata con questo percorso di Yes I Can? So cambiata di peso, so cambiata di fisico, so cambiata di testa. Yes I Can è un viaggio a tanti livelli. Siche, mente, emozioni, spirito, corpo, unito per farvi riscoprire che vuol dire essere vivi. Ti dico che se tu impari no, impari di amarti, il fisico si gestisce da solo. Secondo te, le donne che ci stanno guardando, che cosa devono imparare da questo percorso che stiamo facendo tutti insieme? Allora, intanto ad accettarsi per quello che sono, capire quanto vali come persona, come donna, quanto sei importante per tutti. Perché quando io accetto la mia responsabilità e accetto il mio potere, io diventerò assolutamente il massimo di me stessa. Non pensavo di rincontrarti e che mi avresti cambiato la vita. Ti voglio ringraziare per questo, sei stata veramente fondamentale. Avevo promesso di non piangere, ci sto quasi riuscendo, ma ti garantisco che ho la pelle d'oca. Sei una persona fantastica, i tuoi webinar mi hanno aiutato a cambiarmi e adesso se a 33 anni sono quello che sono è anche grazie a te. Sono soddisfatta, ti voglio bene, spero di continuare a fianco a te ancora per tanto tanto tempo. Se Jill non ci fosse, dovremmo inventarcela, perché il mondo è migliore con Jill, ve lo dico perché l'ho conosciuta. Yes I can, giuro che continuo. Tutto è possibile e dobbiamo amarci da ora in poi e con Yes I can stiamo proprio provando di scoprire come farlo al massimo. Grazie a tutti.